ciao a tutti i ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video oggi ci stiamo dirigendo a durraduno in zona imperuno ovviamente zona industriale chiusa la circolazione delle macchine ancora picchiato cos'è successo non ci credo ok sono riuscito a sistemarla non abbiamo capito come ho fatto a toccarla cioè a piegarla così sotto però cioè storta era già storta però non mi ricordo se così tanto no 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 hanno appena avvisati che qualcuno ha chiamato i carabinieri quindi noi ci ne stiamo andando via prima che arrivino No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mamma mia ragazzi pensavo che mi avrebbe chiesto di fermarmi No, 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 no No, 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 no